Nell'anno del suo cinquantesimo compleanno, Casa degli Artisti di Canale di Tenno apre domani con l'inaugurazione alle ore 18 la propria stagione di attività culturale festeggiando il paesaggio, quello cui UNESCO ha riconosciuto la prestigiosa qualifica di riserva della biosfera. Un paesaggio che si estende dalle Alpi Redrensi al Tennese, dalle Giudicarie Esteriori alle quote alte delle Dolomiti di Brenta. La mostra Uomini, Boschi e Prati, Paesaggi dell'umanità dichiara subito, esplicandoli nel titolo, quali sono i protagonisti e la reale sostanza di questo territorio e racconta il valore e le caratteristiche dell'importante riconoscimento di UNESCO. La mostra rimarrà aperta fino all'11 giugno.